Prego, consigliere Carca, vorrei la parola. Grazie, Presidente. Noi vogliamo fare questa nostra considerazione in merito alla mozione presentata, facendo anche la dichiarazione di voto. Perché concordiamo sul fatto di sollevare il tema della disoccupazione e dell'inoccupazione lombarda, perché i dati in effetti sono tragici e raccontano di una realtà in effetti drammatica. Ma questi dati vanno contestualizzati, perché quando si parla di disoccupazione a questi livelli, a questi numeri, bisogna anche raccontare le motivazioni per cui si è arrivati a questi numeri. A nostro avviso le tematiche sono due, in particolar modo. Uno è quello del modello economico di riferimento, che ormai evidentemente è fallimentare. E qui, come dire, non c'è una colpa specifica lombarda o nazionale, è una crisi internazionale che ha ricadute pesanti anche, ovviamente, sul territorio lombardo. E l'altra, invece, è più specifica lombarda nostra, di cui qualcuno in effetti ha una responsabilità. Perché il nostro sistema imprenditoriale lombardo, da vent'anni, ha una zavorra che si chiama corruzione e criminalità organizzata, che la trascina in un baratro. E evitare di parlare di questa zavorra che grava addosso al sistema imprenditoriale è un qualcosa di davvero ipocrita. Noi riteniamo che chi ha portato il sistema imprenditoriale ad essere in una situazione così tragica, tale per cui davvero i numeri di disoccupazione e inoccupazione sono gravissimi, non può avere quella lucidità e quella capacità di proporre quel modello alternativo, economico, produttivo di sistema imprenditoriale, in buona fede o in mala fede, e risolvere i problemi. Perché la mozione che è presentata oggi, firmata anche dalla Lega, dallo stesso partito, che per vent'anni, insieme a... Una sola precisazione, una battuta, pochi secondi. Uno, per accogliere positivamente il primo contributo del Movimento 5 Stelle a Expo, perché io ho ricevuto praticamente tutti i gruppi politici e tutti i consiglieri, non tutti, però la rappresentanza bene o male di tutti, per dare un contributo positivo ad Expo e del Movimento 5 Stelle non ho trovato traccia. Quindi vi ringrazio che oggi date il vostro primo contributo. È chiaro che è un contributo tipicamente, lasciatemi passare il termine, italiano, tra virgolette, perché c'è sempre l'italiano che vede il bicchiere mezzo vuoto. E quindi anche questo contributo qua può essere sicuramente positivo. Un commento invece sulla questione del lavoro e del sistema che impiega volontari e apprendisti, stiamo parlando di un evento di sei mesi. Ed è l'opportunità di riuscire ad essere in contatto con il mondo economicamente più importante che oggi c'è. Questo a livello di opportunità di lavoro sotto l'aspetto economico. Sotto il profilo invece della crescita personale e professionale di una persona, poter entrare a lavorare o a fare il volontario all'interno di questo sito risulta essere sicuramente un'opportunità unica che gli italiani e la Lombardia e i giovani della Lombardia hanno. Perché l'opportunità di incontrare non solo i visitatori ma le realtà economiche che ci saranno in Expo è un'opportunità unica che non fa solo curriculum ma fa esperienza. E per chi ha un po' esperienza di internazionalizzazione, nel senso che ha girato un po' il mondo per portare in giro le imprese, sa che questa è un'occasione unica. Non è possibile creare posti di lavoro stabile in un evento che dura sei mesi. È possibile però riuscire a mettere i nostri giovani, i nostri tra virgolette, quelli che saranno apprendisti, in grado di affrontare la sfida internazionale che l'Italia dovrà portare avanti nei prossimi anni. Questo è l'obiettivo che si pone e Regione Lombardia, Governo e Expo su questo stanno lavorando. Grazie.